Alessandro Cavallo, noto per essere stato uno dei protagonisti di Amici 20, continua a brillare nel panorama della danza internazionale. Recentemente, ha partecipato a un prestigioso festival di danza in Giappone, dove ha avuto l'opportunità di esibirsi al fianco di alcuni dei più grandi nomi del settore, tra cui la leggenda della danza Roberto Bolle che lo aveva voluto con lui. Gli appassionati del talent show Amici ricorderanno Alessandro Cavallo come uno dei ballerini più talentuosi dell'edizione 2020-2021. Nonostante non abbia vinto, classificandosi terzo dietro a Giulia Stabile e San Giovanni, Cavallo ha conquistato giudici e pubblico con la sua impressionante tecnica e capacità interpretativa. E la sua vita è completamente cambiata. Queste qualità lo hanno spinto a intraprendere una carriera che continua a crescere, portandolo a collaborare con alcuni dei più importanti esponenti della danza mondiale. Alessandro ha recentemente partecipato a un festival di danza in Giappone, un'esperienza che ha descritto con grande emozione sui social media. Non ho le parole per spiegare tutto questo. Mi sento onorato di aver condiviso il palco con artisti e leggende della danza che ho sempre rispettato e da cui ho provato a prendere ispirazione a scritto Cavallo, esprimendo la sua gratitudine per l'opportunità di danzare accanto a figure che ha sempre ammirato. Tra i momenti più significativi della sua carriera recente, Alessandro ha avuto l'opportunità di esibirsi con Roberto Bolle, uno dei ballerini più celebri al mondo. Questo non è stato il loro primo incontro sul palcoscenico, già l'anno precedente, Cavallo aveva condiviso la scena con Bolle all'Arcimboldi di Milano. In quell'occasione, Alessandro aveva interpretato un ruolo principale nelle sette dances grecche di Maurice Bayard, un'esperienza che aveva descritto come indimenticabile. L'ascesa di Alessandro Cavallo nel mondo della danza non sembra destinata a rallentare. La sua dedizione, unita a un talento straordinario, lo ha già portato a raggiungere traguardi significativi in un breve lasso di tempo. La sua esperienza al festival in Giappone e la possibilità di lavorare accanto a Roberto Bolle sono solo l'inizio di ciò che promette di essere una carriera eccezionale. Presto una stella mondiale, scrivono i fan.